Tra lui e me. Dovevi essere sicuro di te, senza fare scappare l'altro. Ora sai che lui è uno che non rischia per te. Io ho rischiato, se lui insisteva... E fossi io vorrebbe tanto bene a Francesca Cimarrosa. Ti ho scelta per moglie, no? Visto? La sta portando a casa. Ciao Francesca. Ciao. Ciao. Non c'è nessuno in casa? Nessuno. Hai paura? E di che? Di quello che potrei chiederti. Fammi sapere quello che vuoi, poi deciderò se devo avere paura o no. E se ti chiedessi una cosa da farti paura? Chiedi. E poi lo sapremo. Chiedimi quello che vuoi. Solo sei gentile. Non c'è nessuno. No. 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 Grazie a tutti.